bella giornata per battipaglia ma anche per noi questa realizzazione fa parte dei programmi i PICS cosiddetti cioè una serie di programmi finanziati dalla regione con fondi europei per la riqualificazione delle nostre città soprattutto le città medie avevamo tempi molto stretti per realizzare queste opere complimenti all'impresa ho visto che avete lavorato su tre turni tutti gli appalti che promuove la regione campania ormai sono su tre turni quindi bisogna lavorare 24 ore su 24 è una bella realizzazione quest'opera l'abbiamo finanziata anche perché era un bel progetto e quindi è merito dell'amministrazione aver collocato tutta una serie di funzioni sociali asili nido attività ludiche palestra e quant'altro perché questo può rappresentare davvero un momento di aggregazione molto bello per i cittadini di Belvedere e battipaglia questi sono fondi PICS molti comuni hanno avuto difficoltà a terminare a spenderli tutti per cui ringraziamo la regione che ci hanno permesso di rimodulare i PICS per cui una parte dei fondi questa struttura è costata 2 milioni e 7 in tre mesi è stata costruita perché i tempi erano condincendati per fare questa struttura in un quartiere importante di battipaglia per vedere molto molto popolato e di assistenza alla famiglia alla genitalità ai minori in difficoltà sono spazi dedicati fatti secondo quello che è la normativa regionale dove viene garantito la prevasi la cosa importante è che una struttura pubblica gestita dall'amministrazione pubblica ci saranno figure di psicologi assistenti sociali tutto ciò che compete il supporto alla famiglia le difficoltà soprattutto in famiglie disagiate con problemi questa struttura e rientra in altre strutture in altre opere che abbiamo realizzato grazie ai fondi PICS una è la palestra e la pista di atletica nello stadio Pastena una delle piste più importanti e innovative della regione che accoglierà sicuramente delle gare nazionali e internazionali poi abbiamo fatto due palestre che sorgono al fianco delle scuole fiorentino e ancora la pubblica illuminazione insomma abbiamo cercato di utilizzare tutti i fondi e li abbiamo utilizzati nel tempo dovuto quindi un ringraziamento anche al nostro ufficio tecnico e delle politiche sociali grazie a tutti